Per i nobili spiriti il caffè Caselli assolveva contemporaneamente a più funzioni. Era un rifugio che li ristorava e li ripagava da tante amarezze quotidiane. Era un'isola sottratta alle leggi che dominavano la città. Era l'anticipo della Lucca che volevano. Il professor Umberto Serenidi scrive così nel suo volume Il Caselli, un caffè nella storia di Lucca, l'aria che si respirava nello storico locale di Via Fillungo che ha riaperto i battenti esattamente una settimana fa dopo 12 anni di chiusura. Un libro per la storia, nella storia della storia, per la storia della città, per la storia della cultura nazionale. Alla presentazione del volume ha partecipato anche il presidente, merito del Senato Marcello Pera. Ancora fino a domenica 14 aprile il caffè ospita la mostra dedicata a Giovanni Pascoli, curata sempre dal professor Sereni. Fino al 26 maggio, ogni venerdì, sabato e domenica, i locali accolgono un ricco programma culturale incentrato sulla figura di Giacomo Puccini, tra mostre, presentazioni di libri, concerti e danza. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla biglietteria del Teatro del Giglio.